Amici di Stonium.net, bentrovati. Quest'oggi una conversazione particolare, particolare perché la facciamo in esterna, non siamo nella redazione di Vasto, ma siamo al San Francesco d'Assisi, all'istituto di riabilitazione di Vasto Marina, dove questa signorina di 90 anni, lo possiamo dire, Angela Polimolino, che saluto e ringrazio, sta facendo un po' un check-up. Angela, intanto rassicuriamo tutti i concittadini che cosa è successo. È successo che 90 anni, anche se spesi bene, hanno qualche problemino, quindi ringrazio il signore che riesco ancora a essere positiva nella vita di tutti i giorni, però devo riabilitare un pochino le gambe, forse ho combinato troppo oppure ho combinato poco, non lo so, le gambe vanno un po' riabilitate. Per la prossima manifestazione olimpica sicuramente Angela sarà pronta. Scherzi a parte, Angela, perché parliamo con te, ci conosciamo da tanto tempo, perché nei giorni scorsi è stata la festa della donna e con te ne vogliamo parlare. Vogliamo parlare di questo impegno al femminile in politica, ma perché no anche nel mondo del sociale, nel mondo della cultura. Mi ricordavi poc'anzi, prima di cominciare la registrazione, che sei entrata in politica tanto tempo fa. Quando esattamente? Nel 1978. Posso dirlo Gianni, che ero la prima donna del dopoguerra a entrare in un consiglio comunale. Quindi io sola, con 30 uomini, insomma, mi hanno protetta bene. Come ti è saltato in mente di iniziare questa carriera politica? La carriera politica mi è venuta dall'Istituto Salesiano, che io sono salesiana cooperatrice. E salesiana cooperatrice significa uscire dal proprio abitamento, uscire, andare nel mondo, fare qualcosa per i giovani. Quindi dal quartiere Ciccarone, di cui ero stata fatta presidente, perché mi stavo già dando da fare, per entrare in politica ci vogliono i voti. E lì ne ho presi tanti, tanto che sono riuscita a essere eletta e subito fatta addirittura assessore, di prima mano, però con un gran coraggio, un grande entusiasmo, tutto si può superare. Per due anni c'è stato con me il sindaco Notaro, lui mi ha voluto, poi dopo il sindaco Prospero, con lui ho fatto altri dieci anni, quindi quindici anni di vita attiva politica. Ecco, l'accento non l'ha perso, un accento romagnolo, ricordiamo che tu vieni da Terra del Sole, Castrocaro. Terra del Sole, Castrocaro, quindi Romagna, la terra di quello che fa le mazzurche, di Raul Casadei. Lì, là non si balla solo, si sta allegri, si gode la vita, in tutto e per tutto, fino a quando si può dire che le gambe possono farlo, adesso io mi devo riabilitare. E a vasto come ci sei capitato? L'ho conosciuto a Bologna, l'amore, quello buono. Mario, ricordiamolo. Quello buono, sì. E mi ha detto, io per far felice mio marito, sapevo che dovevo ritornare a vasto. Non è stato facile dire, lascio Bologna, vado a vasto. Vasto non era come adesso, non parliamo poi di San Salvo come era. Perché io sono andata ad abitare per due anni a San Salvo, allora, quando sono rientrata. Ma l'amore fa fare queste cose, tu vedi lui e tutto il resto non c'entra più. Questa è un po' anche la prerogativa della donna. Io sono ancora forse un po' l'antica qui, di seguire il marito, di secondarlo nella professione, nel modo di fare. La finalità della donna, che adesso festeggiano l'8 marzo, festeggiano la donna. Ma io penso non nella rivendicazione esasperata. La donna va di pesa comunque, soprattutto ultimamente che siamo oggetto di violenza inaudite che non si possono nemmeno pensare. Però non è più la donna gentile dell'Ottocento, bacia a mano, eccetera. È una donna attiva, una donna che lotta con la vita, una donna che fa parte della vita del marito. La condivide, deve crescere i figli, deve andare a lavorare in fabbrica. Insomma, è una vita che va a mille all'ora. Ecco Angela, ti volevo chiedere come è cambiato l'approccio della donna in questi anni. Tu l'hai visto, no? Questo percorso che la donna ha fatto nella nostra città, ma non solo, nel nostro territorio. In questi anni così difficili, così importanti, potremmo parlare della crisi, no? Che continua, ma la donna ha trovato la sua giusta collocazione per quel che merita? Sì, comunque alcuni anni fa, quando io sono arrivata, non c'erano nemmeno le strutture necessarie per valorizzare la donna, per inserirla nella vita familiare, nel mondo del lavoro. Era una donna casalinga, tutto dedito alla famiglia, porta chiusa, si può dire. Invece la donna deve uscire all'aperto, deve frequentare il mondo come è cambiato, deve partecipare, altrimenti come li cresce i figli. E quindi quando sono arrivata là, ho cominciato a parlare di servizi sociali, come inserire la donna nel mondo del lavoro, come levare i figli, anche quando la donna deve lavorare. E poi con tutte le problematiche conseguenze della devianza minorile, delle separazioni, sono, diciamo, problemi della dualità. Quindi servizi sociali e poi per tanti giovani i figli che dovevano studiare, dovevano inserirsi nel mondo del lavoro, come si deve fare, insomma, bisogna pure adeguarli, istruirli. Allora, per il giovane che, per il tempo libero, perché il giovane deve avere possibilità di esprimersi molto nel tempo libero, perché è lì che si forma l'amicizia, si forma un'idea del suo futuro. Ecco, oggi, scusami, giovani a parte, ti avevo chiesto, ecco, questo approccio al femminile, no? Con la vita sociale, con la vita pubblica. Tu mi hai detto una cosa interessante. Quando tu hai portato questi temi in Consiglio Comunale, lo abbiamo ricordato nel 78, ecco, i colleghi maschi come ti guardavano? Un po', dicono, ma questa da che pianeta arriva? Ti do un piccolo aneddoto. In Giunta, ero sola, no? Non solo in Consiglio Comunale, ma in Giunta. Sette uomini, di cui una io, sette persone, l'unica donna. Quando portavo delle delibere di assistenza, ad esempio, di casi estremi di isolamento, di esasperazione, di cose incredibili, io non sapevo come fare a farmi valere con gli altri uomini di queste cose qui, forse. Che facevi? Batte i buoni sul tavolo? Che facevi? No, allora, allora io non sapevo come fare. Mi commovevo, mi vedevo pure a piangere. E mi ricordo Francesco del Prete, l'avvocato, ecco, è pronto il pastoletto. Mi prendevano pure in giro perché mi commovevo, però la spuntavo. Io sono un po' in quelle cose lì, come i romagnoli, insomma, dove vogliono arrivare si arrivano, insomma. Quindi hai portato questa ventata di Romagna nelle nostre terre, hai portato la verve che per fortuna non hai perso. L'allegria. E' l'allegria. Parlavamo della donna nel sociale e nella vita lavorativa di tutti i giorni. 2017, dal 78, ne è passata d'acqua sotto i ponti, però, ahimè, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, la donna è ancora in grave difficoltà. Ce lo vuoi spiegare perché? La donna è ancora in grave difficoltà perché se poco a poco chiede di essere assunta, chiedono se è sposata perché hanno paura della maternità. Succede tuttora. Sì, sì, perché fa delle assenze. E quello che ancora non riesco a pensare, perché ci ho provato io, ma poi non ero più assessore, avevo la scuola civica da guidare e quindi non ho potuto più esprimermi dove io volevo intervenire. Ad esempio, le fabbriche, se sono grosse, come ce ne sono qui, la Denso, la Pilkington, queste grosse fabbriche, devono avere una nurse e devono avere un nido dentro la fabbriche, in modo che la donna non fa assenze, perché si porta dietro il bambino, lo mette nel nido, quando è oro di allattarlo glielo va a dare, ma torna sul lavoro. Quindi questa mentalità, diciamo, di… Quindi è ancora una cultura maschilista. È ancora una cultura maschilista. E me? Io non sono una femminista, non sono una donna esasperata, la donna, la donna, la donna va rispettata soprattutto. Adesso è un momento di grande violenza nei confronti delle donne, vedi? C'è anche la panchina rossa a vasto che ne hanno guardato in questi giorni. Sì, e anche le scarpe rosse per frenare un po' questo tipo di violenza, non è più rispettata. Quindi, insomma, non sono tempi facili. Io devo dire che mi hanno rispettato i colleghi, sia di giunta che di consiglio. Anche se facevamo degli scontri politici fino alle 4 di mattina, per botte e risposta, però con la capabilità di Romagna, sono riuscita a sfruttarla. Sì, quindi tuttora la politica locale, adesso di donne in consiglio comunale, anche in giunta ce ne sono. Cosa pensi di loro? Senza dare voti, eh? Voglio dire, non ci hai fatto un'idea. Penso che, diciamo, nell'unione la positività delle donne è meglio dell'irruenza maschile, perché loro vogliono arrivare, ma va, così. La donna li modera, secondo me, e piano piano scava per arrivare dove vuole. Ha le armi segreti, diciamo, della diplomazia femminile, per arrivare a ottenere quello che vuole. Angela, ci sono tanti, tanti giovani vastesi che hanno fatto fortuna all'estero, fortuna tra virgolette, perché in tante magari vorrebbero anche rientrare e dare il proprio contributo a questa terra. Cosa pensi di questa emigrazione giovanile e al femminile, al di là di quelle che sono le scelte poi legittime di chi vuole andare a fare delle esperienze all'estero? C'è ancora speranza per il futuro? Sì, siamo in un altro periodo di grande emigrazione, come i primi del Novecento, quando i nostri antichi andavano a emigrare con la nave e, come diceva Gaspari, con la valigia e con la corda per emigrare in paesi là e ricominciare una vita diversa. Adesso c'è l'emigrazione veloce con gli aerei, però i problemi rimangono lo stesso. E poi il giovane è portato, perché, non voglio far polemica, ma come li valorizzano i nostri giovani qui? Qui abbatto ad esempio il turismo, cosa facciamo? Punto interrogativo. Perché i nostri ragazzi devono andare a emigrare? Intanto devono conoscere le lingue, ormai le conoscono. Però qui che speranza hanno? C'è di nuovo una grande emigrazione dei giovani, se li senti parlare dici andiamo all'estero perché la troviamo in lavoro, troviamo il modo di spaziare, intanto devono conoscere le lingue, però c'è di nuovo questo spirito emigratorio che qui non si fa e che si deve andare fuori. Quindi per una donna è ancora più difficile? Per una donna è ancora più difficile, però le donne ormai in queste cose sono decise, equiparate anche un pochino alla mentalità maschile e dell'intraprendenza. Una volta uscire una figlia da casa, era una tragedia, già quando si sposava, figuriamoci che puoi andare a lavorare fuori. Adesso invece non è così, vanno a studiare fuori, sono più emancipate da questo punto di vista. La donna ha fatto dei grandi progressi ed è bene che sia così, è un mondo diverso. Io non è che li invidio perché ho 90 anni e ormai non posso fare più niente, però col pensiero, dico ma se fossi stato più giovane avrei fatto qui, avrei fatto l'arte, anche io ancora faccio dei progetti pensando che ormai... Prova a sognare, che progetto avresti in testa? Che progetto so? Intanto vorrei avere dei nipoti. Tu hai già i nipoti? Ancora niente. Detti no. Gianni, perché è la continuità della propria vita, trasferisci nel nipote parte dei sentimenti che ancora hai e non puoi più esprimere per gli anni e tutto il resto, ma questa è un'altra cosa. Parliamo. I progetti proprio da realizzare, che cosa ti salta in mente? Io ho un'associazione di 71 nonnette anziane e arriviamo al giovane, al nipote tramite le nonne, perché i nonni di adesso sono degli educatori, i bambini vengono spesso lasciati ai nonni perché i figli vanno a lavorare e non possono prendere una donna per guardarli e quindi i nonni hanno già questo compito di fare i nonni educatori, quindi buona parte anche dell'educazione viene data anche dai nonni. Senti, una curiosità, prima hai citato Remo Gaspari, qual era il suo rapporto con le donne della politica? Lui mi ha voluto fare, chiese il permesso a mio marito, non voleva, allora nottetempo telefonò, tu devi lasciare tua moglie entrare in politica, hai voti, devi entrare e poi dopo si può anche diventere. Allora Mario gli ha detto, se mia moglie entra, là ci sta e così è stato. Non mi sono dimessa, però ho un buonissimo rapporto, io ho avuto diversi incarichi di prestigio diciamo nella mia vita politica, a parte l'assessorato, la scuola civica presidente, la presidente dei servizi sociali che poi li ho istituiti io, anche presidente del revisore dell'ASL, insomma di incarichi ne ho avuti tanti, portati spero con dignità, con serietà, con trasparenza, che per me quella è la legge quadro della mia vita. Il sindaco Raggi di Roma, così sempre nel Mirino, oppure il sindaco di Torino, l'Appendino, che idea ti sei fatta? Insomma donne importanti che guidano città molto importanti. Ma io vi faccio un'idea che la donna al giorno d'oggi, da come ho cominciato io, ha fatto dei passi da gigante, però deve questa indipendenza, chiamiamola così, deve essere presa con dignità e con consapevolezza che il domani, il futuro, dipende anche da lei, perché la prima formazione del giovane, da chi viene? Dal latte materno, dalla mamma. E quindi le prime note, diciamo, di apertura, di socialità del figlio viene dalla mamma. Quindi la mamma dovrebbe pensare questo, la mamma. Mamma ma anche politica, insomma una donna che può fare tutto. Angela, stiamo concludendo questa bella conversazione, lo so, tu potresti parlare una settimana intera, però stiamo concludendo, magari ti verrò a trovare un'altra volta, sperando che abbia finito il tuo check-up. Ti volevo chiedere questo, ecco un suggerimento in positivo intanto alle donne, perché è stata, nei giorni scorsi lo ripetiamo, la loro festa, ma perché sia festa tutti i giorni e soprattutto non ci sia questa violenza, questa discriminazione che ancora c'è, tu in positivo che messaggio lanci alle donne? No, vedi perché? Io penso che questa violenza esasperata che c'è dipende anche dalla eccessiva, ma non giusta intraprendenza della donna, che forse vuole strappare in questo discorso, non te lo so proprio dire questo, so che solo che l'uomo in questo momento forse si sente inferiore di fronte al progresso che la donna ha fatto, sia nella società che nella vita, eccetera. Non è un'invidia, è magari non accettare questo fatto che è della parità che non corrispona bene. Quindi violenza a parte, questa sudditanza dell'uomo nei confronti della donna di cui tu parli, ecco un messaggio in positivo per chi vuole entrare in politica, per chi vuole darsi da fare in una società come quella odierna che si va sempre più rinchiudendo in se stessa. Le donne ci stanno bene in politica, sono delle preziose mediatrici, perché nonostante tutto l'uomo, anche quando ti fai uno scontro politico, ha sempre molto rispetto, perché questo discorso, questa nota, questo suggerimento viene da una donna. E non è che lo rifiuta così, ci medita sopra. Io almeno ho avuto questa esperienza molto positiva con i miei colleghi di giunta e di consiglio, molto positiva. Sono rimasti in buonissimi rapporti e fra di noi non c'è queste donne e quelle uomo. Noi siamo, noi siamo degli amici, questa è una cosa bella. C'è speranza quindi. Sì, c'è speranza. Posso dire una parola anche su questa struttura che è formidabile. Qui veramente nel posto del dolore, della sofferenza, abbiamo gli angeli custodi, degli infermieri bravissimi, preparati. Ci voleva una struttura così per rieducare chi deve camminare. Io voglio ritornare a fare tante cose e quindi spero che qui mi rimettono in piedi, perché la mente funziona, le gambe un po' di meno. Allora per far compacciare la mente con le gambe, questo comando deve arrivare anche alle gambe, devo poter riabilitarmi qui. E lei ha detto, lo stai facendo e sicuramente faranno benissimo il loro lavoro a San Francesco. Sì, pazienti con noi vecchi, tutti quanti vecchi siamo, un preso a poco. Grazie dunque a questa simpatica signorina di 90 anni, Angela Polimolino, che ci ha fatto compagnia nella nostra conversazione settimanale. A tutti voi, grazie e alla prossima.